Alla mattina una sconfitta a Mara per cui è maturato dopo essere stati anche in vantaggio? Sì, loro sono stati bravi a sfruttare le palline attive su cui ne sapevamo che potevano crearci pericoli e dei rimpalli che comunque gli sono andati bene, noi non siamo stati bravi a marcarli a dovere stare stretti e hanno capitalizzato le uniche occasioni che hanno avuto sulle palline attive. Adesso avete subito un match impegnativo domenica prossima con il Tirol? Sì, è un altro scontro diretto, per ora con il Venezia è andata male, oggi è andata male e speriamo di invertire questo trend e di tornare alla vittoria anche fuori casa perché è importante rimanere agganciati al treno dei play-off più in alto possibile.